Siamo alla vigilia di questa Final Four di Champions League, si va a giocare proprio a Perugia, la città dove tu hai vinto la Champions League che hai nel Palmarès. Certo, l'abbiamo già detto, non ci saranno sentimentalismi lì, è troppo importante. Sì, è una grande emozione ritornare a Perugia perché è una città nella quale ho vinto tanto, spero che mi porti ancora per una volta fortuna. Ecco lì proprio in semifinale, sarà uno scontro fratricida fra italiane proprio con Perugia, insomma non c'è spazio per niente. No, purtroppo la Cev ha messo questa regola, abbiamo già dovuto scontrarci con un'italiana nei quarti, adesso ci tocca nella semifinale, sarà una partita tosta perché poi giocano in casa, insomma sarà una bella partita. Un regolamento curioso, probabilmente se le cose fossero nate diversamente, come dovevano andare, cioè con la meritocrazia in finale ci sarebbero più italiane. Sì, penso che almeno tre sarebbero arrivate, però insomma le regole sono queste, è buon per noi insomma che ci siamo arrivate. Appunto, l'impresa di eliminare il Pesaro è stata fatta, ora va completata e sarebbe veramente un gioiellino nella stagione della Foppa. Beh, certamente, insomma è un trofeo molto prestigioso, abbiamo insomma, ci abbiamo visto tanto per arrivarci, speriamo insomma di riuscire in questa impresa. Che Foppa è oggi? Una Foppa sicura? Una Foppa, tu l'hai definita sicura, ma non solo, no? Anche unita, si vede anche tra di voi, è un grande affiatamento. Sì, si vede anche dai quanti della lo bianco che mi fai segni dietro. Sì, siamo molto affiatate, siamo cresciute tanto, sia fuori che dentro del campo, penso che si veda la differenza. Sì, siamo più sicure, più cariche, più grintose. Penso che il cuore possa essere, insomma, il fattore determinante. Beh, è quello che vogliamo fare. Abbiamo fatto tantissimi sforzi per arrivare in fondo, ce lo siamo meritate sul campo, credo. Quindi è giusto andare là e cercare di prenderci questa Coppa che davvero sarebbe un grande successo quest'anno. Il regolamento vuole che non arrivino due squadre in finalissimo, due squadre della stessa nazione in finalissimo. Quindi altro scontro fra Trecide in semifinale contro Perugia. Squadra che più o meno avete già misurato. Sì, abbiamo vinto qui bene, 3-0, ma credo che questa partita alla fine non conti niente, perché sabato sarà uno scontro diretto dentro fuori in queste gare e vince chi affronta meglio la partita con più concentrazione, con più testa, con più lucidità. Quindi sarà tutta un'altra storia. La FOP ha imparato ad affrontare queste partite decisive. Insomma, Eboli forse non era ancora prontissima, ma da Eboli è cresciuta tanto. Io spero che Eboli ci sia servita come lezione. Non sottovalutare, non tralasciare neanche un particolare, dare veramente il massimo. Sono due partite in due giorni, però poi ti portano a un traguardo bellissimo, quindi noi faremo veramente di tutto. State provando anche delle cose nuove, stai spingendo molto il gioco, non stai cercando una fappa veloce. Guarda, io la cercherei sempre, la fappa veloce. Ci sono volte in cui non si può, bisogna fare diversamente, però credo che il nostro gioco sia quello. Alla fine è il gioco che mette più in difficoltà l'avversario. È chiaro che le cose vanno fatte perfette in tutti i settori, perché altrimenti si rischia che poi il gioco veloce ti porti a giocare peggio in certi momenti se le cose non sono precise. Quindi, insomma, speriamo di fare bene in tutti i settori, quindi che io possa sfruttare al meglio queste palle. Adesso probabilmente è il momento in cui riusciamo a fare anche queste cose e credo che serviranno tantissimo. La disputate viste, no? Parecchie. Più viste che disputate, però. Però, insomma, quest'anno è una di quelle, quindi vedremo di dare tutto. Insomma, sono due partite importantissime per noi, per la squadra, per la società e per la voglia di invadere questo titolo. Insomma, quindi ce la metteremo sicuramente tutta e in tutto per tutto. È una grandissima occasione, no? Arrivare qui non è stato facile, è stato sicuramente meno facile che in altre stagioni. Ora che l'obiettivo è vicino ed è oggettivamente raggiungibile, bisogna veramente mettere in campo tutto. Sì, siamo arrivati fino a questo punto e quindi adesso bisogna dare molto di più. Insomma, abbiamo battuto peso perché la squadra che in questo momento era il più forte, e quindi vediamo di fare anche altre due belle partite, insomma. La prima di queste, la semifinale decisiva, ovviamente per il passaggio alla finalissima, un altro scontro interno, no? Italiano, tutto italiano, contro Perugia, squadra di casa, che avete già misurato sì, ma che ovviamente gioca a casa sua. Eh sì, gioca in casa, poi comunque è una squadra che ci sono delle brave giocatrici con esperienza, tipo Togut, la cinese Young, e quindi si aspetta di vedere come giocheranno. Noi andremo lì guerrite sicuramente e vedremo questa bella partita. Serena è in gran forma, lo abbiamo visto nelle ultime uscite, hai trovato anche una certa continuità, no? Quindi potrebbe essere veramente la tua Champions League, anche per te può essere una vetrina molto importante, non ne hai più bisogno, non ti conoscono già tutti, però ha una conferma importante a livello internazionale. Beh, io darò sicuramente il meglio di me e poi si vedrà, perché per adesso magari non si può sapere di come si gioca, però fino ad adesso ho giocato abbastanza bene e adesso andremo di continuare. Allora, quando ci sono partitoni di questo genere, insomma, cosa ti passa per la testa? Tu, per essere la serena che conosciamo, devi mollare il braccio senza pensare a niente, ci siamo lì? Non devo pensare a niente, solo a divertirmi, quello è importante, perché poi inizio a fare castelli per aria, che magari, no, no, bisogna divertirsi e tirare forte. Un muro arriva, una palla la metti per terra, chi se ne frega, si va avanti, no? Sì, andrà avanti sempre. Bocca lupo serena, saremo giù anche noi, quindi, insomma, sosterremo insieme a tutti i tifosi della squadra. Ok, Crepi, grazie, ciao. Grazie.